In questo momento sto facendo un'icona con molti assist, molte diciamo rifiniture in oro e per questo ho deciso di fare un breve video proprio su questa particolare lavorazione. Cosa dire dell'assist? L'assist si può fare in vari modi, si può fare con l'oro conchiglia che molte persone che sono pratiche di iconografia sapranno che l'oro conchiglia è la foglia d'oro tritata con della gomma arabica che è quella che poi facilita l'adesione come se fosse un acquerello metallico. L'oro conchiglia permette una pittura e un assist molto più di precisione. ma meno riflettente. Io in questa icona sto facendo con la missione e l'oro in foglia e questo permette un assist un po' più impreciso perché è più difficile fare con una sostanza collosa delle righe perfettamente dritte ma più che si impone. Questo ovviamente deve anche un po' far riflettere che ovviamente nell'icona serve un equilibrio delle cose dorate. Per chi non fosse diciamo troppo esperto di iconografia vi dico che in questa fase sto applicando la missione. La missione è praticamente una colla sulla quale poi diciamo si incollerà e aderirà all'oro. Io ho provato sia la missione vinilica che quella d'olio e onestamente ho una preferenza per quella d'olio anche se è un po' più complicata da stendere. Vi dico anche perché la preferisco. La preferisco perché ha un'adesione migliore su alcuni colori che fanno una pellicola un po' repellente è più sicura che resista. Io utilizzo una missione ad olio con un tempo rapido di essiccazione. Utilizzo la missione a tre ore. La cosa più complicata è capire quando è il momento di mettere la foglia d'oro. Questo mi resta molto difficile diciamo spiegarlo. Si capisce facendo tante prove e si impara facendo perché purtroppo ho fatto anch'io così. Se si mette la foglia d'oro troppo presto questa quando la si batte tende a polverizzarsi nella missione e fa un effetto un po' più bruttino. Se invece la si mette troppo tardi non si attacca. Per cui il momento giusto diciamo cambia. Cambia anche in base al tempo, cambia in base a quanta umidità c'è e cambia anche in base a che temperatura abbiamo. Quindi su questo vi dico soltanto se la volete utilizzare fate tante prove e non vi scoraggiate. Per quanto riguarda la foglia d'oro io per mettere sull'assist mi trovo bene con la foglia de calco. Ho provato anche con la foglia libera però non mi sono trovata molto bene. Questo ovviamente magari è una cosa mia personale. Comunque ecco io mi trovo bene con la foglia de calco. C'è poco da dire. Quando la missione sembra pronta un tocco diciamo un po' delicato e se poi si vede che non si attacca magari uno vuol dire che la missione sta seccando o va giù picciando con una pressione un po' più forte. Una volta diciamo applicata la foglia io in genere ho un pennello di sesola diciamo di una morbidezza media e lo batto un po' sopra per farla aderire senza strusciare diciamo abbastanza delicatamente. Un'altra cosa un po' diciamo complicata da dirvi è quando si può spennellare l'assist per togliere l'oro in eccesso. Anche questo come diciamo sempre per la fase dell'incollaggio dipende dall'umidità e della temperatura perché diciamo sarebbe bene non farlo troppo presto. Se lo facciamo troppo presto e siamo troppo insistenti si corre il rischio sempre di frantumare la foglia e farla impastare di un colore un pochino più scuretto. Il giorno dopo quando la missione si sarà perfettamente asciugata è bene mettere una passata di gomma lacca sopra in modo molto preciso sopra le cose che abbiamo fatto l'assist. Ovviamente come si può immaginare la gomma lacca ha una funzione protettiva.